Ehi, tu che stai guardando questo video, ancora prima di iniziarlo ti voglio ricordare di mettere il codice LOLOCHEF nello shop, funziona in tutti gli altri giochi Supercell e sul Supercell Store e aumenta la tua possibilità di cucinare del 100%. Let's go! Stiamo criticando. Stiamo criticando ragazzi, ragazzuoli, benvenuti e bentornati su Brawl Stars, assieme ai ragazzi di Twitch che stanno spammando, stiamo criticando, stiamo valutando. Siamo tornati con il valuto, l'account dei miei iscritti, dei miei follower, chiamatelo come volete, con il cappello da chef, per la prima volta lo chef che valuta i suoi allievi, che valuta altri piccoli chef che stanno crescendo, addirittura chef anche più bravi che hanno deciso di venire a questo contest culinario per mostrare le loro doti. Non so perché sto facendo un paragone con la cucina, ma appunto siamo qui per questo formatino e vi ricordo che se volete venire a vedere le mie live per valutare gli account, vedermi giocare, qualsiasi cosa, le faccio ogni sera alle 8 e mezza, tranne il sabato, mi raccomando. Ragazzi di Twitch, quanti like chiediamo per questo episodio per portarne poi un altro ancora più bello? Quanti like chiediamo per questo episodio di valuto l'account in ritorno? 1, 2, 3, 4, 5, 6, mmm, non mi piace 1, 2, 3, 4, 5, 6, è troppo, troppo sopravvalutato. 12.741, vai ragazzi YouTube, 12.471 e la prossima volta metto un premio in palio e valuterò l'account in maniera del tutto diversa dal solito. Il funzionamento lo sapete, vado a fare delle 5v5 nelle amichevoli, quindi vado qua, metto delle 5v5 e le prime persone che si prendono il codice possono entrare e valuterò il loro account. Ve lo giuro che oggi non valuto in base agli Edgar e Kit sul profilo, per una volta cercherò di non farlo. Hanno 0 di ping, mi sa che hanno 0 di ping, soprattutto Dani che è stato il primo ad entrare, il signor Tanks, Dani del GK Aita Team con 3.800 win nelle 3v3, 700 in singolo, 400 in duo, 34.000 coppe ed è arrivato a Mito 2 e il record Mito 3. Secondo me può alzare un pochettino di più. Ha trovato già la skin di Mandy, l'abbiamo trovata anche noi, siamo stati fortunati nell'episodio del Ranked, anche troppo fortunati. Ha infatti il coso del fortunello sul profilo, dinamite pura, account creato nel 2019. Ok, molto molto interessante tutto ciò. E noi dovessimo andare a vedere i brawler, ok, ha una top 9 molto bella. Facciamo una cosa, valuterò in base anche a quali brawler skillati sono stati portati su, il livello generale delle coppe, le coppe più basse, le coppe più alte, perché valutavo un po' troppo, secondo me, basandomi su Kit, Edgar e queste cose qua. Qui l'Edgar neanche lo vedo, tra l'altro, c'è l'Edgar, sì è lì. Però possiamo notare una top 9 tutti grado 25, anche quasi tutti attivi tranne quel pocho e Sandy che... Sandy l'ha droppata un botto, Sandy l'ha droppata un botto. Magari l'ha fatta nel 2019, non voglio essere troppo critico, ma insomma. Interessante, anche quella Jesse. Qual è il brawler più basso di coppe che ha in assoluto? Ha un Feng, che tra l'altro è un brawler che secondo me non è neanche troppo skillato, ha il grado 13. Poi ne ha un po' al 16, che sono sempre i soliti brawler meno utilizzati nel gioco, anche questo è importante. Ne ha un po' al 20, carini, questi sono di solito i più utilizzati. E una top 9 non male, 6 e mezzo secondo me, 6 e mezzo è un ottimo voto. Ivan Mix, 9911, 9911 nelle 3v3. Sicuramente gioca dal 2021 come minima, 800 in singolo, 3000 in duo, è arrivato a Mito 3, attualmente però è solo a Bronzo 3. È in un club molto discutibile, mi ricorda una scena molto esotica di Grax. Infatti l'account l'ha creato nel 2019 a tutti i brawler tranne uno, e di tutti questi brawler ha fatto pure un grado 30, che è Lili. Non male, non male a Lili, poi a tanti brawler che non ha ancora recuperato negli anni. Sono sicuro che quel Buster e quella Piper sono stati buttati giù dal tempo, con i reset stagionali. Anche quel Corvo, quel Leon, quel Ringhio, mi sanno proprio di brawler che aveva spinto tanto tempo fa. Però è interessante vedere questo account ripreso in mano, perché ne aveva tanti di gradi 25, comunque ha avuto il suo momento prime, ora piano piano si sta riprendendo. Ha i brawler meno utilizzati come ultimi, ma sono anche tra i più nuovi. Quindi ti auguro di riuscire a riprenderlo, perché sicuramente lo farai, infatti lo vediamo anche dai brawler al 9, che è un account G. E hai fatto un grado 30, quindi le abilità per farli le hai. Ha fatto pure un 29. Continua così, signor Ivan, bravo. Bravo, per incoraggiamento gli darò un 7 più. Mi piace. Tutti con Jesse equipaggiato, eh, qua sono tutti un po' di parte. Squarepants con Alpine, lo lì è Alpine Meccerino? No, way. Questo è un mostro allora. 25.000 coppe? 4.700 perché è arrivato a diamante come record? Mi sembra strano, perché no, no, non è. Mi sa che è quello che si compra. Lo lì è Alpine che si compra a Meccerino. È arrivato a oro 2, 1.300 win nelle tre tre tre, 500 in singolo, 800 in duo. L'account creato nel 2020 è... Signore. Ehi, ti ho visto che non ti sei iscritto al canale e soprattutto, mannaggia te, bevi i tuoi due litri d'acqua al giorno, che ti fanno bene per la tua salute, mi raccomando. E non mi pagano per dirvelo, non ho l'etichetta. 30. Colt, che probabilmente ha avvicinato tanto al 30, ma l'avrà droppato. Vabbè, vedo dei brawler sia schillati che non, mi sembrano fatti sincero in sopravvivenza. È proprio quello che capto. Però ho fatto anche una Jessie, che ha droppato un sacco, ma l'ha fatta abbastanza alta. O magari l'ha droppata negli anni e poi l'ha ripreso da poco. Qui tanti gradi 15 e i più bassi ce li ha al 10. Quindi, in generale, un po' con tutti ha giocato, non troppo, gli ha dato giusto... La spolverata, devi giocare un po' di più Goku qua, se vogliamo alzare questo account. Soprattutto è il pinmecerino, quindi se è uno che del gioco ne dovrebbe sapere tanto e dovrebbe starci dietro anche tanto. Interessante. 6 e mezzo anche a lui. Saltellino. 3.000 win nel 3v3, 1.200 in singola, 650 in duo. Arrivato a mito, 40.000 coppe. Li piace il calcio, oppure non li piace, perché ha una combo di icone che non riesco a decifrare. Ha la skin più rara dei pass, perché questa qui è la skin del primo pass che era uscito. Che ok, si poteva prendere in gemme, ma in ogni caso. Count creato nel 2019, abbastanza ogil, bro. Oh, ma questa top 9? Ragazzi, Hyper, Gelindo, Lily, Tick, Jackie, Hank, Carl. Mai visti, Chester pure, probabilmente prima del buff. Poi vabbè, dappena sotto ci sono un Edgar e un Kit, che devono sicuramente sempre rovinare la scena, ma inaspettato, ha anche delle coppe generali molto alte. Di conseguenza li pusha tanto, tranne Janet, che ha fatto livello 10, quindi ha avuto la decenza di sprecare delle risorse assurde che potevi usare per farti un brawler all'11 e usarlo, e non l'ha mai pushato. Pure Mo, pusha questo Mo che è illegale, è fortissimo adesso Mo. Anche Clancy, state slippando su questi brawler qua, ci state dormendo sopra. Buona però, una buona prima fila, sono contento. Qui abbiamo BMC, io ve lo giuro, vi voglio bene, ma non riesco a leggere questo nome. Perché dovete usare dei font strani? Sta flexando l'icona di John Cena, Imo del Cucinare. Cosa c'è scritto? È una lei? A me glielo leggo tipo Kyuru. Chiara! È arrivata il suo brawler nel 2022? Sì, no, ok, è Chiara 100%. Quando hanno come main, Bibi, Enzo, Colette, quasi sempre sono ragazzi. È crazy questa cosa, c'è questo amore verso brawler femminili e questo supporto girl-girl che è bellissimo. Poi abbiamo una Bibi, Spike, Colette, grado 25. Poi piano piano sta portando su Meg, Nita, Piper, interessante, anche Jessie. Let's go! Ci piace Penny, portata su, incredibile, Janet. Sì, ok, è 100% Chiara. Dopo questo ne ho avuto la conferma. E a Mo, livello 1, vabbè, l'avrà appena sbloccato anche Draco. Sono contento che ha sbloccato tutti questi brawler. Jeline Dotis, che ha, sì, infatti c'è l'all'1. Pearl, livello 2, ma lo sta portando su, giusto per il gusto di cucinare. Brava, Chiara. Però hai un account a cui darei comunque un 6,5. Davvero, non serviva a mettere questo nome. Ti giuro che Grax non sarebbe contento di questa cosa. 9000 winner tra i 3, 700 in singolo, 2800 in duo. È arrivato come record a 7700, è arrivata a leggenda 1. Signor GX, è nel mondo di Brawl Stars dal 2019. Oh, wait! Io lo so come ha fatto fare questi brawler qui. Ve lo dico subito come hanno fatto a fare questi brawler qua. Perché vedo proprio il pattern. Questi brawler al 30 e 32 sono stati fatti con le trio showdown. Questo Colt a 1040 coppe, questo Bo a 1.6 coppe, quella BBAO983, eccetera, eccetera, sono stati fatti sfruttando l'evento di SpongeBob, nelle trio showdown. Che vengono considerate infatti nelle duo come vittorie. Ah, hai capito, signor GX. Bello però, ha fatto bene. Se non l'avete sfruttato avete fatto malissimo, ragazzi. Però ci sono troppi brawler che ha i bassi, my man. Devi portare un po' su anche questi brawler che non hanno tanto affetto e non hanno tanto amore. E devi dedicare un po' di risorse e non portare su soltanto i brawler mainstream e forti. Perché sennò poi il gioco diventa noioso. Bisogna apprezzarlo a 360 gradi. In ogni caso, ci sta un bel set. Abbassato un po' dal nome. Così, giopi! L'ho già sentito questo nome qui. 25.000 coppe, 1.500 vittorie tra i v3, 665 in singolo, 489 in duo, Squarepants, 25.000 coppe. Non è arrivato alto nelle ranked, ma è arrivato nel gioco nel 2022. Questi sono casualmente gli stessi del tizio di prima? Esattamente lo stesso concetto. Infatti le win in duo mi sa che si sono alzate un po' per il signor Stossi Jopi, che però è comunque riuscito, nonostante le sue coppe, a fare colta al 32. Colta e rubrazi. Guardate la differenza tra i primi quattro che sono al grado 30 e quelli dopo. Cioè, scorri con il dittino un pochettino e sono sotto al grado 25. Così non mi piace, sincero. Se me li fai in maniera anche graduale ci sta. Però fatti così è proprio si vede che è stato sfruttato un evento facile. Che, ripeto, ci sta, eh. È giusto così. Però vorrei vedere un po' più... Non lo so, 7 meno Stossi Jopi. Stanga! Anche lui ha trovato la nuova skin di Mandy perché è arrivato a leggenda. Yo! Guarda che arrivare a leggenda in questo punto esatto delle ranked è di follia. Ha le emote del cucinare, ha tutto nel cucinare con scritto forno a legnate. Si vede che lui è un vero G. Signor Stanga in questo gioco è dal 2019, leggenda. My man. Qua, Pearl. C'aveva Pearl come main brawler. Che leggenda! Che leggenda, pure 8-bit. Come primo! Che king! Colta al 32. Perché hanno tutti colta al 32? Cosa mi è sfuggito? L'avete fatto nelle trio showdown, dai. Ditemi la verità. E sapete perché non sono riuscite ad andare oltre al 32? Perché dopo il grado 32 potete trovarvi contro quelli che hanno 100.000 coppe. Ed è molto difficile. Perché sono un po' più bravi. C'è questo strano meccanismo. Buona, signor Stanga. Poi abbiamo Davide Alb con 25.000 coppe. È arrivato a Diamante 3. 2.500 win, 3.800, 3.900 in duo. Ed è main hash. Il secondo main hash della mia vita. No, aspetta, non lo voglio riportare. Aspetta, però si può riportare una persona? Ah! No way! Pure Pearl! Ragazzi, ma questa cosa di fare Pearl al grado 30? State iniziando a cucinare un po' tutti. Pearl e Colt. Fatti grado 30. Ci piacciono? Oh, oh, sempre puzza di trio showdown. Eh, sinceramente. Anche Ash in trio showdown era forse uno dei pirotti che avevi le lacure e tutto. Però, in ogni caso, vabbè, anche qua c'è un grande dislivello. Ma si apprezza. Si apprezza. Sempre, sono sempre gli stessi. Io vi sfido ad andare sui profili delle persone. E la top 9 finale è sempre. Sam, Hank, Barry, Grey, Goose, Lola, Mandy. Per qualche strano motivo. Bonnie, Otis, Pam. Ma sono sempre quelli. È crazy. Davide. Sei e mezzo, dai. Chi sta. È il gamer. Il gamer. 1.300. Si chiama esitante il gamer. 1.300 win, 1.300, 2.300, 290 in singolo, 182. 13.000 coppe. Mi aspetto qualcosa di stranissimo sul suo profilo. Account creato nel 2022? No. Ok. È uno che gioca a Piper un sacco. Ha giocato un po' Buzz. Il resto dei brawler sono tutti un po' lì. No, non è vero. Cos'è sto dislivello qua? Scorri un po' col dito. Sono tutti grado 14. È un casual, ma... È riuscito lo stesso a fare Piper a 780. Bravo, è un buon brawler da fare in su, my man. Continuo così. Mi è piaciuta questa prima rondata di valutazioni. Vai, la seconda la facciamo in arraffaggio M5v5 con foresta delle nevi. Let's go! Uh, quanti nomi nuovi. Si vede che c'è stato un po' un ricambio. Ultimamente quelli che giocavano prima a Brawl hanno smesso. Ne stanno arrivando nuovi che stanno riprendendo il gioco dopo un sacco. È strano. È strano. MCNS Suri. Uh, anche lui ha trovato la... Vabbè, bro. Farsi il profilo tutto di Mandy è davvero esagerato, eh. È tipo uscita un giorno fa, my man. Chill out. Però è arrivato a 10.000 nelle ranked, Suri. 81.000 coppe. Avevo visto solo ora. Mamma mia. 28.000 winner tra i 3, 2.000 in singolo, 2.600 in duo. Account creato nel 2000... Nel 2019, bro. Mettiti il Mandy quando vuoi. Sto scherzando. Sto scherzando. Davvero non me lo aspettavo. Sei fortissimo. Ha pure portato Mo al grado 31. Grey al grado 30. Livello 10. No way. No, non ce l'ha tutti al 30, ma quasi, eh. Questo è uno di quelli con cui me la sto giocando per la top Italia. Allora c'è pure Kenji che userà per la win streak, immagino. Ha qualche brawler droppatino in giro. Però la maggior parte ce l'ha a grado 30 anche attivi. Molto interessante. Colt e Mandy 35 ti danno quella marcia in più. Io ragazzi mi sento di Daniel Bonsuri. Ha un account bellissimo. Gli do un 9 più. Lightning Gabriel con il primo nei Santi Goblin vicepresidente. 2.800 win in 3, 3.490 in singolo, 300 in duo. Creato nel 2024. Quindi un novellino che ha come record mito 2. No, bro. Quanto hai giocato il primo per farlo a grado 32 con questo dislivello? Come fate? Come fate a fare i gradi 32 con questo dislivello qua? Cioè tu scrolli, c'è brocca a 500, fai così e c'è il primo al 32. Ah l'hai fatto in trio showdown. Ok, ci sta. Ci apprezza l'onestà, my man. Però comunque è impressive il fatto che tu lo abbia fatto a questo grado. E per questo motivo, signor Gabriel, io mi sento di darti un 6 e mezzo. LL CK7 Ale Italia. Vuole fixare troppe cose questo ragazzo. Però voglio vedere le tue coppe, signor Gianni. 4.300 winner tra i 3. 400 in singolo, 800 in duo. Statistiche vecchie e interessanti. Account del 2019. Oh! Attenzione. Dog, Bo, Lily e Denk. I brawler più sottovalutati attualmente. Tranne Lily, che vabbè, Lily viene giocata spesso. Interessantissimo. Dynamite. Delenca al 10. Ok, Bo all'11. Mi sa che Bo è il suo preferito. Fatemi vedere. Bo è il suo brawler preferito, infatti. Bravo, tutti gli altri 500. Vi sta portando su anche brawler sottovalutati. Però, bro, quella Jessie a 300 non si può vedere. Non valuterò in base a cose tipo Edgar. E gli darò un 7. Mi piace questo account Ale. Mai gasato, my man. Mai gasato. Ninja. In modo del cucinare, dinamite pura. 6.800 in mito. 3.700 winner. 500 in single. Account creato nel 2022. Main Dynamite. Però dopo Dynamite vedo un Fang Mortis, Edgar, Energetic, Piper, Spike, Gelindo Colt. Che sono attualmente tra i brawler più gettonati. È interessante. Una Penny. Portata 500. Tantissimi lasciati sotto le 500, ma lasciati anche sotto le 300 e lasciati anche sotto le 150. Molto selettivo, Ninja, eh. È uno un po' che segue il trend. Segue un po' la popolarità, Ninja. Ci sta comunque. 6 più, Ninja. Dalsa. Talented Dalsa. Uuuuh. 80.000 coppe. 36.000 win nelle 3v3. 8.400 come record. Troppe win in single, eh. Mi puzza un po' questa cosa delle win in single. È in un club interessante. Fabula rasa. Apriamo il profilo. Eugenio fatto al 33 ed è ancora attivo. Paster fatto al 31. Lily fatto al 31. Tu, Piper, Frank, Gelindo, Angelo e Tic al 30 attivi. Tantissimi fatti al grado 30. Uuuuh. Uuuuh. Guarda quanti. Bello. Molto interessante, signor Dalsa. Non male. Ragazzi, al buon Dalsa mi sa che darò un voto che va tra l'8 e il 9. Però non voglio dargli 8 e mezzo. Li darò 8 più, signor Dalsa. Vero. Quando hanno un nome così sai già che sono fortissimi. Eccoci qua. Davvero, quando hanno quel cosino giapponese non è possibile. Nel club Sigma non si può leggere. Ah, come prole preferito il nuovo Semino. Bellissima. Quelli con il giocatore piace un sacco anche a me. In modo di cucinare, tutto fare, 12... Cos'è tutto fare? 12.000 win in 3v3, 800 in singolo, 3.000 in duo e scanna di brutto nelle classificate. Mi aspetto almeno un grado 30, eh. Uuuuh. Allora, allora. Mi puzza un po' questo kit BB Magbuster di Trio Showdown. Ma anche se è stato fatto in Trio Showdown a 1360, è impressive. Fatemi vedere le win in duo. Eeeh, qua ci sono delle win in duo molto alte. Gelindo al grado 33, Piper, Stu, Colt, Moe, Barry, Energy, Knitta. Hello, bello. Tanti ancora sotto, però. Pure, no, Hank live all'1, no. No, sì, Hank live all'1. E tu hai un Hank live all'1, 80 coppe, ma va in giro con un kit a 1360. Brazy, 7 e mezzo. Papaya, 43.000 coppe, 4.300 win, 1.100 in singolo, 1.300 in due. Molto bilanciata questa cosa, ci piace. Non devo criticare, non devo farlo, ma... Ah, è più forte di me, quando vedo queste cose. Byron è bello. Brock ci sta. Dirò solo questo. Abbastanza bilanciato con le coppe generali, sì. Sì, sempre i soliti in fondo che vengono usati meno. Buono però, oh, papaya. Bello l'account, eh. 7 meno per queste cose. Pezzo. 29.000 coppe nel club prime. Addirittura il presidente di un club. Paura mai, non ha paura di niente, 4.300 win. Nelle 3v3, aspetta, un botto 4.300 win per un account creato nel 2024. Dovete vi... Oggi siete entrati apposta. Oggi voi siete entrati apposta per sfoggiare i vostri brawler senza troppe abilità, insomma. Quando non vi critico questa cosa? Perché io lo so che quel kit l'hai fatto in KO, l'hai fatto in trio showdown. L'avrei fatto in KO saltando sopra i tank, quel kit lì, perché è sempre così. Cioè, io scrollo un pochettino, sono a 600, qua c'è un kit al 35. Crazy. Qui abbiamo BMC. Mu... Vedi, non riesco a leggere questi font, davvero. Muros, murl... Boh. Muro. 2.000 win nel 3v3. 170 in singolo, 500 in due, account creato nel 2022. Muro. Muro. Muro, muro. Muro, muro, interessante, muro. Ascolustu a 111 livello 1 o gasa, eh? Qual è il brawler più alto che ha, più basso di livello? Griff livello 6. Mico livello 8. Us livello 6 a 335. Lola a 500 livello 7. Sì, è Lola a 500 livello 7. Ti piace Lola? Interessante. Bel profilo. Ah, è Marty. No, come mi fate a dire che questo è Marty? Ma in quale universo c'è scritto Marty? Quindi è una ragazza anche lei. Lo stavo quasi per dire, tipo, eh? Vedo quella Bonnie, quella Mandy, quella Masi, quella Enzo, quella Lola. Infatti è una ragazza che si chiama Martina. Grande Martina. Brava. LL Aletta. 2.900 win nel 3v3. 300 in singolo, 500 in duo. Con statistiche nel 2024. No, 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 no. No, adesso devo iniziare ad essere un po' più... Questi dislivelli. 6. 6 Aletta di pollo. Modern Hip Cinnamon. 2.000 win nel 3v3. Con 499 in singolo, 700 in duo. Spike, mi devi casare, bro. Hai un bel nome, Spike. Porti il nome di un brawler comunque con una certa aura. No. No. Davvero non ci siamo. Dov'è Spike, poi? No, bro, non puoi chiamarti GX, Spike, e non avere Spike. No, dai. 5 e mezzo, ragazzi. Arriva la prima insufficienza del giorno. Pablo, con l'emot del pagliaccio. Bro, non serve metterla, a meno che te la stai dicendo da solo, che farebbe alquanto ridere. Creatura della notte. Un main Mortis con anche la sua skin dedicata. Bello. 7.000 win nel 3v3. 1.000 in singolo, 1.000 in duo, più o meno. Nel 2022... Mortis, grado 30? Con il cappello, ragazzi. Mortis, kit. Forse trio showdown. Non lo so, non lo so, non lo so. Non male, però, il tizio, eh. Il tipo ne sa. Sempre i soliti abbandonati. Se me li porti subito, la prossima volta ti do un voto alto, Pablo. Sto giro ti darò un set. Zachm. LL Capibara Wow. Come fate a mettervi il tag? Ma fate un mini Capibara sul... È bellissimo. Umpa Loompa. 5.000 win in 3v3. 700 in singolo, 500 in duo. Counter nel 2019 con l'emot del cucinare. E... Stu! E pocio nella top 3. Guarda che belli. Guarda le lì che freschi. E... Oh, no, ragazzi. No way! Guardate quante coppie ha droppato Edgar. Questo ha droppato veramente Edgar dal grado 20 a 500 coppie a 104. What? What a legend. Zachm. 9. I am him. Dici di essere lui? Vediamo, bro. Forna legnata, l'emot del cucinare. Il resto del profilo da battaglia è discutibilissimo. Però è simpatico. Account del 2023. 5.000 win. 1.500. Uh. Lo sappiamo qui. Interessante. Anche Hank? Perché Hank sta ricevendo tutto questo amore? Perché gli ha messo una skin. Questi tutti abbandonati a loro stessi. Peccato per quel gusto. Se gli toglievi 6 coppettine c'era qualcosa di più interessante. È un account che non mi spicca, ragazzi. Però, allo stesso modo, è interessante vedere questa top. 9. Non è una top 9 che si vede tutti i giorni. Quindi, I am him. Ti darò un 7. E poi abbiamo lei, immagino. Anna si chiama. Ok. Abbiamo Anna Coquette. Ha un profilo full Coquette. Tutto colorato di rosa. Anna. Non puoi deludermi, Anna. Main Ems. Ovviamente. Davvero sempre la stessa. Account grado del 2018. Ok. 1.700 win. Il 2018 è stra OG. Ci ha giocato probabilmente poco. Allora, Anna. Io voglio vedere almeno un brawler al grado 25. Non puoi deludermi, Anna. Ems al 27. E basta. Droppata di... Non voglio neanche calcolare quante coppe. Edgar droppato pure lui. Di non troppe. In realtà. Questo è stato droppato da due reset stagionali. E poi ne ha un po' 500. Un po' lì. Un po' na Jesse. Un po' un Hank con 29 coppe. Boh, almeno che voto li possiamo dare. È difficile dare un voto. Mi do un 6 a questo account. Non può... Cioè, è molto spoglio. Un account comunque che non ha avuto troppe ore di gioco dietro. Però Anna, mi è piaciuto. Mi è piaciuto che comunque ha il suo personaggio questo account. Molto, molto bene. Anche oggi abbiamo cucinato. Ho visto tanti piccoli allievi oggi. Di solito vedo molti più grandi chef. Insomma, oggi abbiamo beccato solo un paio di grandi chef. Gli altri erano tutti allievi. Ma sono comunque contento. La Custri. Io vi ringrazio tantissimo della visione. Come al solito, se volete stare ancora in mia compagnia, io vi lascio quei due video. E noi ci vediamo al prossimo. E ricordati che ti osservo sempre.